Buongiorno a tutti, il 13 di agosto, sabato, ripartiamo col Festival della Cipolla Rossa di Calabria, partiremo come al solito alle 21 in Piazza San Francesco a Campora San Giovanni, vi invito a venire a gustare i prodotti, tutto quello che preparerà la Prologo di Campora San Giovanni, vi ricordo che il Festival della Cipolla Rossa è l'unico in Calabria riconosciuto con il marchio di Sagra di Qualità che consegnateci al Senato della Repubblica il 20 febbraio del 2020, vi invito a venire a partecipare, sarà una festa con espositori, con i produttori locali, i confezionatori della Cipolla Rossa, noi come Prologo stiamo lavorando ormai da a parecchi giorni per la buona riuscita di questo Festival e invitiamo tutti voi, tutti coloro che vogliono partecipare, che possono partecipare a venire alla nostra manifestazione, ci sarà musica, spettacolo, ci saranno da degustare tantissime cose e noi vi aspettiamo a Campora San Giovanni. Ciao a tutti. Grazie a tutti.